Eh, io ho fatto... Adesso, ah, finché fa così con il disco. Stai registrando. Ok, Priscilla, come ti sei sentita in questa mediazione? Allora, dico emotivamente coinvolta, una cosa che un po' non mi ha fatto piacere, di carattere io non sono una persona conflittuale, quindi questo è stato l'aspetto emotivo, per cui non volevo nemmeno venire in mediazione. Ciò che mi è piaciuto è, beh, intanto avere visto lo sguardo di mio fratello, mi mancava molto, e quindi era una cosa che purtroppo è avvenuta in questo ambito. E il mediatore ti è... Il mediatore, scusami, ha... Sì, mi è piaciuto lo sguardo di comprensione. Ah. Erano tanti anni che magari uno non ricordava, con questa comprensione, questa voglia di capirlo. Quindi ti ha aiutato? Sì, 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 assolutamente. O ha guardato a te? Nell'incontro, nella prossima sessione sarebbe stato un rivelarmi di figura. Ho capito. E quando il mediatore ti ha chiesto di uscire dalla stanza, cosa hai provato? Mi è dispiaciuto. Avrei assistito alle parole di mio fratello, senza anche dire niente. Ah, perché avevi bisogno di... Di starci di più, di avere più contatto. Ok, grazie. Grazie a te.